L'inventore britannico James Dyson, fondatore della società Dyson e inventore dell'aspirapolvere senza sacchetto dual chiclone, ha detto che sta lavorando a un'auto elettrica radicalmente diversa da quelle in commercio finora. All'auto lavorano 400 ingegneri dal 2015. Non c'è ancora un prototipo, ma è già stato costruito il motore, e si stanno testando due diversi tipi di batteria, che secondo Dyson sono più efficienti di quelli delle auto elettriche per come le conosciamo. L'auto elettrica di Dyson, dovrebbe essere messa in vendita nel 2020, e secondo quanto ha detto l'inventore sarà molto costosa.